È possibile aiutare le forze dell'ordine durante un arresto? Magari portare a terra il soggetto, bloccarlo e fare tutto il lavoro difficile? È successo a un ragazzo in provincia di Pesaro Urbino. Andiamo a vedere questo video perché ci fa capire molte cose e capiremo insieme come è possibile rendersi utili alle forze dell'ordine. Sono Manuel Spadaccini e ho fatto della difesa personale il mio lavoro. Grazie alla mia esperienza nell'arma dei carabinieri e poi all'estero ho capito che per difendersi non serve solo muovere le mani ma occorre saper usare la testa prima dei muscoli. Come fare? Te lo spiego in questo canale. Benvenuto nella difesa personale, professionale. Stay safe! Prima di parlare di questo meraviglioso intervento e poi vedrete perché mi piace tanto, vi invito a iscrivervi al canale. Per me e per tutto il mio staff fa una differenza enorme, anche un solo iscritto in più. Per cui dai, iscrivetevi, attivate le notifiche con la campanella e noi intanto iniziamo a parlare di questo intervento meraviglioso. Ho mostrato già questo video brevemente nelle mie storie su Instagram, a proposito anche qui, se non mi seguite fatelo perché ogni giorno do dei tips, dei consigli su cosa fare, come difendersi, insomma cerco di rendere il mio profilo qualcosa di utile per tutti. Per cui mi trovate su Instagram, Manuel Spadaccini KMA. Ora andiamo avanti a parlare appunto di questo video perché è successo qualche settimana fa a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, dove, andremo a vedere tra poco, un ragazzo esegue una serie di movimenti sia legalmente che tecnicamente ineccepibili. In questo video capiremo anche come è necessario muoversi per poter aiutare le forze dell'ordine, che cosa è opportuno fare prima e poi fare durante e anche al termine dell'intervento. Proprio per questo ho voluto portare in un video qui questo esempio perché ritengo contenga tanti elementi interessanti. Andiamo a vedere subito che cosa è successo. Abbiamo un soggetto, piuttosto su di età, che dà in escandescenza e se la sta prendendo con le forze dell'ordine, nello specifico se la sta prendendo con due agenti di polizia locale. Stoppiamo subito il video per ragionare un attimo su questa cosa. Come vedete, l'agente di polizia locale uomo inizia a subire un po' l'avanzamento di questo soggetto con la maglia blu, che è piuttosto alterato. Ovviamente l'agente cerca di evitare lo scontro giustamente, però questa persona sembra non volersi calmare e infatti alla fine si è visto appunto che l'ha quasi un po' messo in difficoltà, tentando quasi di colpirlo. L'agente donna cerca di fare qualcosa verbalmente, però rimane più defilata e sostanzialmente non ha alcun intervento per poter fermare questo soggetto. Il fatto che entrambi gli agenti non siano nello stesso campo visivo del soggetto ostile, quindi la donna sia defilata dietro è corretto, perché una delle cose che insegno alle forze dell'ordine è quello di non mettersi mai entrambi nel campo visivo, ma avere la possibilità di intervenire quantomeno a sorpresa da dietro, cosa che però qui l'agente donna ancora decide di non fare. Torniamo a vedere il video, in questo caso vedremo Ale, questo ragazzo con i pantaloni rossi, che osserva la situazione e da quello che io percepisco, penso che conosca anche il soggetto con la maglia blu, perché poi vedremo più avanti, questo soggetto andrà a parlargli quando saranno in terra. Comunque sia Ale è lì, osserva e capisce che può fare qualcosa. Non arretra infatti Ale, ma cerca sempre di avvicinarsi a questa persona, cercando appunto di chiudere le distanze ed essere pronto a intervenire. Ma prima di intervenire andiamo a vedere un qualcosa di molto importante. Ecco, avete notato? Chiede l'agente, posso aiutare? Posso aiutare? Non prende una sua iniziativa, sa che potrebbe fare qualcosa, ma prima chiede l'autorizzazione all'agente di polizia. Andiamo a vedere adesso l'intervento che andrà a fare Ale, che è una delle cose che mi è piaciuto particolarmente, perché è qualcosa di molto ponderato. Andiamo a vedere che lo andrà ad agganciare e lo porterà a terra, accompagnandolo, per quanto è possibile accompagnare un soggetto, e poi andrà a lavorare su di lui. Vediamolo insieme. Ah, avete visto che bello l'intervento che ha fatto? È entrato, come vi dicevo, l'ha portato con un takedown, in qualche maniera, lo porta al suolo. Ricordiamo che, ovviamente, non siamo su un tatami, non siamo in una palestra, è un ambiente non adibito. al combattimento, di conseguenza, quando si va al suolo, qualche impatto c'è sempre, ovvio, non abbiamo la bacchetta magica. Però comunque sia, non lo porta in una maniera violenta e eruenta, fa quello che serve per portare una persona a terra, nulla di più, nulla di meno. Ma quello che amo di questo movimento è il fatto che lui abbia voluto preservare anche l'incolumità della persona, perché applica una sorta di mataleao, quindi una cosa che cinge la testa, il collo, per portarlo a terra. Ma poi una volta che a terra è molto controllata questa chiusura. Vedete che a un certo punto, quando arrivano gli agenti della polizia locale, lui solleva pure un braccio, lo solleva dalla testa del soggetto, facendo capire, guardate che sono morbido, lo sto tenendo lento, lo sto allentando, quindi non è preoccupante, né quello che sto facendo io, né neanche la resistenza che sta offrendo questo signore. E poi, quel dettaglio, la gamba che va a chiudere, va quindi a mettere un gancio sul braccio del signore in terra. Ecco, questo è un dettaglio molto tecnico, mi è piaciuto, perché comunque va a evitare che questa persona possa sbracciare, possa colpire, possa anche farsi male, picchiando il polso, le mani per terra, insomma. E ovviamente agevola anche l'avvicinamento delle forze dell'ordine verso il soggetto ostile. Una vera perla. Ma vedete anche quando ripete, faccio piano, faccio piano, cioè porta anche qualcosa come, passatemi termine, acqua sul fuoco. Non cerca di alimentare la situazione in modo che si incendi, ma cerca di stemperare i termini, stemperare la situazione. Questo è un altro dettaglio che non a tutti verrebbe spontaneo. Ovviamente si capisce che questo ragazzo Ale è molto tecnico, perché ha una capacità di gestione della propria forza, della propria tecnica e anche un autocontrollo psicologico non da tutti. Di conseguenza si capisce che è allenato, è abituato comunque a muoversi in ambito tecnico e probabilmente ad esperienze o nel BJJ o nella lotta, comunque sia. Questi sono movimenti che non vengono spontanei a una persona così, a caso, ma ovviamente c'è del lavoro dietro. E questo ci fa capire quanto può essere importante allenarci, saper praticare o difesa personale o anche un'arte marziale, uno sport da combattimento. Perché ci dà degli strumenti che possiamo magari utilizzare in un momento inaspettato, ma possono essere veramente molto utili. E vi spiegherò anche perché lo ritengo utile questo episodio. Non tanto perché Ale è andato a aiutare le forze dell'ordine, sì, anche, ma secondo me ha aiutato di più un'altra persona. Va bene guardare i video, ma è qui che si impara davvero. Esatto. A me piace questo intervento non tanto perché ha aiutato le forze dell'ordine, ma ha aiutato questo signore, questo soggetto che in quel momento era in difficoltà, era in escandescenza, riteneva di aver subito un'ingiustizia, quanto sembra, ascoltando il video. Io non ero lì ovviamente, mi devo basare su quello che vedo con voi. Però vedo che intervenendo Ale fa sì che questa persona non peggiori la propria situazione, non crei un'escalation di errori, magari andando, potrebbe anche capitare, andando a colpire un agente, facendo cose che lo avevano messo più in difficoltà a livello legale il giorno dopo. O di conseguenza andare a bloccare questa persona e far sì che non si metta troppo nei guai è stato un gesto estremamente, estremamente buono da parte di questo ragazzo. Quando ho pubblicato questo video nel mio Instagram, come vi dicevo, a proposito, ve lo ricordo ancora, seguitemi sul profilo perché secondo me ne vale la pena. Quando ho pubblicato questo video alcuni hanno detto, eh cavoli però adesso questo signore può denunciare Ale perché lui è intervenuto, non è un agente di polizia, insomma adesso potrebbe rischiare. Se un domani dovessi aiutare io qualcuno o qualche operatore non vorrei finire nei guai legalmente, allora la domanda è più che lecita, ma c'è una normativa ben precisa. In pratica la legge italiana consente se appunto un operatore, come ad esempio un agente di polizia locale, un pubblico ufficiale, vi incarica, quindi acconsente a un vostro intervento, ecco in quel momento voi prendete esattamente le sue funzioni con tutte le coperture del caso. In sostanza Ale in quel momento, essendo stato autorizzato e vedete qui anche la cosa perfetta che ha fatto, posso intervenire, posso aiutare, al momento che riceve un sì, ok lui è comandato e come se in quel momento fosse un operatore di polizia e di conseguenza ha la possibilità di lavorare sul soggetto, ovviamente nel pieno rispetto del buon senso delle regole, però appunto senza avere problematiche, come per dire, no tu non hai una divisa addosso, allora io adesso me la prendo con te. No, in quel momento lui prende le funzioni di un pubblico ufficiale. Un'altra osservazione che mi avete fatto su Instagram è stato scrivermi, Manuel, però questi agenti di polizia locale sono in difficoltà, dovrebbero formarsi di più, eccetera. Lo sapete come la penso ragazzi, ve lo ricordo, gli agenti di polizia locale, gli agenti di polizia di Stato, Garabinieri, Guardi di Finanza, insomma, tutte le forze di polizia è giusto che abbiano una formazione. E secondo me la formazione non è mai abbastanza, nel senso che non si è mai troppo formati. Ovviamente non è compito dell'operatore andare a fare dei corsi, poi corsi di che cosa? Il corso per arrestare le persone, non è che fanno i corsi serali per mettere le manette, capite? Ci sono dei corsi specifici per le forze dell'ordine che devono essere portati e proposti dalle amministrazioni, dai relativi comandi, e non certo lasciati a discrezione dell'operatore, che per carità può anche farlo, può andare a investire di tasca sua, tempo, denaro, energie, fatica, eccetera, cercando qualche scuola, qualche corso, perché no, come ad esempio in KMA, dove insegniamo tecniche anche di polizia, però a dire che sono obbligati a farlo, quando invece secondo me è l'amministrazione, sono i loro comandi che devono fornire, come per qualsiasi dipendente che deve ricevere la formazione per il proprio lavoro, ecco, mi sembra un po' eccessivo dire che è colpo a loro che non sono formati. Io spingerei sempre le amministrazioni a dire investiamo sui nostri operatori, perché come appunto dicevo, qualsiasi dipendente, qualsiasi lavoratore ha diritto ad essere formato come si deve. Se vi è piaciuto il video, questo genere di analisi ne volete ancora, piazzate un bel like, fatemelo capire, e in questo modo riuscirò a portarvi sempre materiale interessante per voi. Lasciatemi qua nei commenti che cosa ne pensate della formazione delle forze dell'ordine, di questo intervento, di questo ragazzo, voi avreste fatto qualcosa di diverso, cosa avrebbe potuto fare, ha fatto bene, cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno. Costruiamo così insieme la nostra community per diventare un punto di riferimento nella difesa personale qui in Italia. E poi, ovviamente, noi ci vediamo lunedì prossimo 13.45 con un nuovo video qui sul canale, la difesa personale professionale. e stessi!